Ciao a tutti ragazzi, io sono Bayon Gamer e anche oggi siamo tornati con un appuntamento di PES 2016 modalità MyClub. Con l'aggiornamento di questa settimana la Konami ci regala finalmente il secondo gen di Champions League, ovvero quello della seconda settimana, a gente che è accompagnato dalla relativa Coppa Challenge Online e Coppa Challenge Control Com, dove ovviamente avete la possibilità di poterne vincere uno free, uno ovviamente per ogni competizione. Inoltre è stata aggiornata anche la lista degli allenatori e udite 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 è tornato Guardiolo col 4-1-4-1, allenatore che ho già preso in precedenza esattamente con questo modulo e ragazzi vi consiglio di prenderlo, quindi sfruttate il momento. Ora però segnali miei è arrivato il momento di far girare le palle. Quindi eccoci qua, lista di aggetti speciali UEFA Champions League Stars R16 Weekend 2 e UEFA Champions League Stars R16 Weekend 2 80+. Il secondo come mai ben sapete è utilizzabile soltanto una volta e ci dà la possibilità di prendere un pallone nero al 100%. Io però come sono arrivato a fare le prime 4 pescate con il primo agente e per l'ultima pescata lascio quello con il secondo. Quindi con il 74.2% di probabilità di trovare un pallone nero clicco sull'agente, paghe con GP, confermiamo. Ah, eccoci qua. Eeeh, boh non lo so ragazzi, io ovviamente clicco a caso qua. Vediamo un po', vediamo un po' quale sarà la prima palla, è nera, è nera, è nera. Iniziamo bene, direi che iniziamo bene, non fai giochetti, iniziamo male. Eeeh, mica è tanto male, abbiamo beccato Evra, Francese della Juventus, ha 34 anni, alto 1 e 74, stile di gioco 1 a 2. Tarsino sinistro, protezione generale 82, questo è per me un fenomeno. Mi piace tantissimo sto giocatore, vediamo, confermiamo. Infatti guarda là, elemozione 90, velocità 84, resistenza 83, dribbling 80 e inoltre c'è la esterna gira a Veronica. Questo è davvero molto forte, direi che abbiamo iniziato alla grande. Aggiungiamo Evra a NambiMyClub e passiamo alla seconda pescata di oggi. Quindi, contattiamo la gente, paga con GP, confermiamo. Ok ragazzi, ci risiamo, vediamo, 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 cliccola. Secondo pallone nero della giornata, stavolta chi sei? Poi giochetti, adoro quando fanno così, adoro quando fanno così, non ci sto credendo, non ci sto credendo, non ci sto credendo, non ci sto credendo, non ci sto credendo ragazzi, il colpaccio, ho fatto il colpaccio, ho beccato l'Alaba. Ah, un striogo del Bayern Monaco, 23 anni, alto 1,80, stile di gioco, terzino offensivo e questo è quello che mi mancava in difesa ragazzi miei. Che spettacolo, terzino, sinistro, protezione generale, 89, guardala che cazzo di esagolo. Fammi vedere meglio come si è combinato figlio mio, conferma. Cazzo, cacci piazzati 90, potenza tiro 87, controllo palla 86, velocità 86. Inoltre c'è ancora tiro di collo, taglio le spalle in giro e cross calibrato. Questo mi farà sicuramente la differenza in formazione. Mamma mia che spettacolo, mamma mia che pescata, mamma mia che fenomeno. Aggiungiamo pure Alaba a membri MyClub ragazzi, cazzo. Ok, con sorriso in bocca si passa la terza toscata di oggi, quindi contattiamo la gente, paga con GP, confermiamo. Mamma mia ragazzi, mamma mia. Non ci sta ancora credendo. Cricola. Ho preso il mondo in un botto solo. Terza palla nera di fila, mamma mia. Tu chi sei? Ma chi sei? Ma fatti vedere. Oh, Fernando, brasiliano del Marbleu. A 28 anni, alto 1,83, stili di gioco collante. Mediano, quello del santo generale, 80. E anche questo ragazzi è un gran bel colco. Vi faccio vedere, confermiamo. E guarda là, infatti. Recupero palla 92, abilità difensiva 89, resistenza 77, potenza tiro 80. Mamma mia che spettacolo di pescata ragazzi, mamma mia. Aggiungiamo la barri MyClub. E passiamo alla quarta pescata di oggi. Quindi, contattiamo la gente. Paga con GP. Confermiamo. Ok, 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 ok. Ci siamo, ci siamo, ci siamo. Vediamo un po', vediamo un po', vediamo un po' di ancora. Vediamo dove si ferma. Oh, ci sto credendo. Quattro palle nere di fila. E con la prossima sarà pure la quinta. All in. E vabbè, allora dillo. Che dilla. Tedesco della Juventus. A 28 anni, alto 1,89. Stili di gioco. Bastino. Centrocappista. Voltezione generale. 81. Eppure questo, ragazzi, è un gran cazzo di fenomeno. Confermiamo. Passaggio da su terra, 86. Recupero palle, 85. Potenza tiro, idem. Controllo palle, 83. E inoltre c'è anche passaggio a scavalcare. Mamma mia che pescate. Mamma mia che pescate. Io amo questo agente. Va bene. Aggiungiamo che dilla a membri my club. E ci andiamo a fare l'ultima pescata di oggi, ovvero la quinta, con il secondo agente. Ovvero questo. 100% pallone nero. Quindi, contattiamo l'agente. Paga con GP. Confermiamo. Clicco qua. Vediamo un po'. Vediamo un po' chi troviamo. Non me lo dire, non me lo dire, non me lo dire. Non me lo dire. Non me lo dire. Ho beccato pure Neto. Brasiliano della Juventus. 26 anni, 81 e 91. Stile di gioco. Portiere, valutazione generale, 83. Ottima pescata, pure questa. Pian piano praticamente sto beccando tutti i migliori portieri del gioco, ragazzi. E a proposito di portieri, ho fatto una gran cazzata ultimamente. Perché non mi ero accorto che il testhagen faceva parte della lista elenco bersagli di questo agente. E udite, 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 l'ho svincolato. Quindi le probabilità di beccare di nuovo testhagen sono davvero altissime. Eh, lo so, ho fatto sta cazzata. Va bene ragazzi, con queste splendide pescate, compresa quella di Araba, che ancora non ci sto credendo. Concludo qui anche questo episodio, come sempre. Spero che vi sia piaciuto, quindi vi lascerò un pollice di su. E a commentare. Alla prossima. Ciao!